un super Lewandowski mi fa la manita vediamo i cinque gol spettacolari il primo perfetto di Lewandowski che si posiziona per piazzare il secondo di Lewandowski e a dir poco appuzza resiste al contrasto poi in serie di rimpalli e quindi non ci dimentichiamo la potenza di questo giocatore che comunque vale quello che costa e ancora questo tiro spettacolare a volte sottovalutiamo la potenza il gol della tripletta guarda qua salta perché lui c'ha il dribbling c'ha il fisico e c'ha il tiro bellissimo gol il quarto gol non è da meno facile tap in con il passaggio di Eder questa squadra gira una bellezza l'ultimo gol di Lewandowski è ancora più bella azione spettacolare è il piazzato questa era piazzata pure se pare nell'incrocio ma c'è un altro gol che ha propiziato proprio lui Lewandowski con la finta con l'L1 mette a dormire il difensore poi cerca il gol spettacolare con il tacco il portiere para ed a posizione defilatissima Berardi di tacco grande Lewandowski manita per lui per il tacco grande Lewandowski manita per lui